Musica Lunedì 24 agosto, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Le notizie di oggi in primo piano è stata sgominata una banda che trafficava con il commercio di carburanti e poi è stato estradato in Italia un boss della droga che aveva un mandato proprio dalla procura perugina e ancora due inchieste, una sul lavoro nero, l'altra invece sui matrimoni che in Umbria sono sempre più in calo. Queste le notizie principali ma poi ovviamente dai singoli territori, tanti gli spunti. Allora le prime pagine dei quotidiani, il giornale dell'Umbria, l'inchiesta come dicevamo sul lavoro nero nella regione scovato un irregolare al giorno e poi a Gubbio si apre una nuova voragine in via Tifernate, la strada viene interrotta. E ancora appuntamento domani sera a Terni per la finalissima di Miss Umbria, 21 bellezze sognano il podio, tra queste vedremo anche alcune ragazze provenienti dai territori di Alto Tevere, Alto Chiasce e Folignate. Poi accade a Foligno, video hard e ricatto, scatta la denuncia mentre i carabinieri scovano delle persone alla guida del proprio mezzo sotto effetto di alcol e droga e dunque ritirano otto patenti. Il Corriere dell'Umbria, l'inchiesta sui matrimoni, matrimoni profondo rosso, l'Umbria è la seconda regione d'Italia per il crollo dei sì, meno 43%. E poi Danarni muore in scooter, tra volte ucciso da un'auto, la vittima è un 74enne, da Perugia droga ed alcol alla guida in otto finiscono nella rete. E poi dallo sport, grifo indicazioni ok da giovani a riserve, Fere tocca a Gondo per il gubbio Ecco Calombo e poi si è tenuto nel fine settimana esattamente ieri a gubbio il trofeo Fagioli, vinto da Fagioli che sbanca e porta a casa l'undicesimo sigillo. La Nazione invece apre con la cronaca, estorsioni, droga e doppio gioco, un boss della droga era in fuga ma è stato estradato in Italia, lo leggeremo nelle pagine regionali. Il messaggero ci parla invece di una truffa legata al contrabbando di carburante, quattro arresti in manette persone che opererebbero nella zona di Bastia. Che cosa farebbero? Benzina e gasolio provenienti dall'est europeo vengono immessi in maniera illegale in Italia, le accurazioni e indagini della Guardia di Finanza hanno accertato violazioni sia su accise che concorrenza leale. E poi ancora dalla prima pagina del messaggero il caso di Colombella, lo ricorderete, la bombola esplosa in una cantina mentre delle persone stavano realizzando della conserva di pomodoro. Ebbene c'è la perizia sulla bombola stessa, tra le altre cose sembra che l'esplosione di questa bombola possa far nascondere in realtà un malfunzionamento della stessa. Ancora al Todi Festival ieri un omaggio a Califano mentre da Perugia infuoca la polemica sulle bollette dell'acqua, sempre più care, tutti in fila contro i rincari. Queste le prime pagine dei quotidiani, dalle pagine regionali ripartendo dal giornale dell'Umbria l'apertura dedicata al mondo della giustizia, toghe nuove regole per tre mira legali. Che cosa succede? Accade che la norma oggi consente agli avvocati di usufruire del titolo di specialista, è una norma che ha pochi giorni di vita ed è già al centro di polemiche perché di fatto creerebbe difficoltà ai giovani professionisti mentre darebbe vantaggio agli studi di avvocati più noti o più avviati se vogliamo, proprio perché questi possono freggiarsi accanto al loro nome dell'aggettivo specialista. I settori in cui si può essere specializzati sono 18 ma dicevamo la bufera sull'argomento è già aperta. E poi aste crescita record in Umbria dal 2011 al 2014 sono quadruplicati i procedimenti di immobili che vanno all'asta semplicemente per fallimento delle aziende che ne sono titolari ma le vendite dei beni restano al palo, cioè ci sono sempre meno persone disposte poi ad acquistare questi beni. Appuntamento domani sera per gli appassionati del genere a Terni perché a Terni si tiene la finale di Miss Umbria che poi gareggia per la finale di Miss Italia. Sono 21 le ragazze in gara tra queste anche dei volti che provengono per esempio dall'Alto Chiascio, ben due si chiamano Anna Brunetti che arriva da Fossato di Vico e Giorgia Chiavatti che arriva da Gualdo Tadino, ma ci sono anche, ad esempio, c'è anche Ilaria Belli che proviene da Foligno. Dunque un appuntamento per gli appassionati dei concorsi di bellezza da non perdere. Le pagine regionali dal Corriere dell'Umbria all'apertura, l'abbiamo letta, è dedicata ad una inchiesta sui matrimoni profondo rosso. Già perché in Umbria si registra uno dei crolli più consistenti dei matrimoni, meno 43% che pone la regione in una ideale classifica al secondo posto, tra quelle che hanno visto proprio sempre di più crollare il dato di persone che scelgono di sposarsi. Ma non è l'unico dato che in qualche modo va evidenziato perché anche sul dato separazioni, l'Umbria, come dire, davvero se la batte, nel 1995 in Umbria si separava meno di una coppia su 10, adesso una su tre, quindi decisamente alto. Il record questo dell'Italia centrale che in termini assoluti significa che nel 1995 entravano in crisi l'89 per mille dei matrimoni, oggi ben 351 e che non sono davvero pochi. Ma accade anche che in questi divorzi e separazioni ci siano storie abbastanza singolari, come ad esempio in Umbria quella di un medico novantenne Umbro che ha chiesto ed ottenuto il divorzio dalla moglie di 84 anni per portare all'altare l'amante di 35 anni più giovane di lui. Insomma accade anche questo. Nelle pagine regionali dunque l'apertura del Corriere è dedicata a questa inchiesta sui matrimoni, ma poi si parla anche di politica. moderati ora parla Sebastiani. Chi ci accusa sapeva di allearsi con la Lega. Ricordiamo che Enrico Sebastiani, ex consigliere di Udc, alle scorse elezioni regionali, ha sostenuto la lista civici e popolari in appoggio a Catiuscia Marini ed ora risponde a chi sostanzialmente ha detto a Sebastiani e ai suoi di aver tradito lo spirito del centro-destra. Questo per le pagine regionali del Corriere, la nazione, l'apertura dedicata ad un arresto eccellente. Parliamo di Cataldo Ceravolo, 45 anni, originario di Ciro Marina, ma residente nel capoluogo Umbro, è stato arrestato vicino Francoforte con un mandato di cattura europeo perché era fuggito dall'Italia per paura di essere ucciso. Infatti per il clan Ceravolo era diventato l'infame perché aveva spifferato notizie sulla banda, la banda che gestiva e gestisce in Umbria il racket, l'andrangata sostanzialmente, ad un maresciallo e allora aveva cercato la fuga ma è stato arrestato a Francoforte. Il messaggero invece dedica spazio ed approfondimento nelle sue pagine regionali a questa rete di contrabbando del carburante. Quattro arresti sono finite in manette delle persone che operano nella zona di Bastia Umbra che cosa facevano? Importavano benzina e gasolio dall'est Europa rivendendolo ovviamente senza pagare su di esso le tasse. La Guardia di Finanza li ha stretti nella morsa. Questo per le pagine regionali ed ora nel dettaglio quelle locali ripartendo dal giornale dell'Umbria che titola sul lavoro nero multe per mezzo milione. Oltre 2.000 ispezioni nella prima metà del 2015 nel Perugino scoperto un dipendente irregolare ogni giorno. E poi a Corciano spizzicato mentre spaccia dell'era un ventenne finisce nei guai e sempre nel fine settimana le forze dell'ordine hanno controllato 200 persone al volante delle proprie auto, 8 sono stati ritrovati sotto effetto di alcol e droga. Fedeli, dite la vostra sulla parrocchia, accade anche questo. Siamo a Perugia, esattamente siamo nella zona di Ponte Doddi dove il parroco lancia questa iniziativa ovvero una serie di incontri domestici programmati dove il parroco nella riservatezza della casa parla con i propri fedeli facendosi dare un voto sostanzialmente sulla parrocchia ma anche facendosi dare consigli su come gestirla. In Via Tifernate, e siamo a Gubbio, si è aperta una nuova voragine, la frana a poca distanza da quella verificatasi lo scorso giugno. E poi, proseguendo sempre sul giornale dell'Umbria, siamo a Città di Castello, i sassolini dell'assessore. Parla l'assessore Carletti, parla del cartellone state in città, cartellone dice che è stato reso possibile per l'apporto di tanti privati, ma c'è anche chi non apprezza. A Umberti, del Movimento 5 Stelle, diffida l'AT1, sospendete la gara per la gestione dei rifiuti, tempi troppo stretti e che non favoriscono, soprattutto i termini del bando, la concorrenza. Intanto, sempre da Città di Castello, parla il consigliere socialista Bartolini, bene il bilancio varato dalla Giunta. Siamo a Nocera Scalo, dove ha inaugurato nel fine settimana la nuova chiesa ricostruita dopo il terremoto. Il luogo di culto era stato demolito, ne è stato costruito uno ex novo. Mentre a Gualdo Tadino, maggioranza e opposizione si bacchettano a vicenda su temi come giudice di pace, lavori pubblici e anche arredo urbano. Intanto un gualdese, Lucio Pierotti, è stato premiato da Epta per la sua abilità nell'essere promotore di crescita aziendale. L'azienda in particolare nella quale lavora è l'azienda Modula, nella provincia di Pesaro Urbino, dove tra l'altro è avvenuta la premiazione. Sempre a Gualdo Tadino, gli ospiti del Germoio, ovvero il Centro Socio Riabilitativo per Portatori di Handicap, hanno un orto dove poter fare attività grazie all'aiuto e anche al sostegno di privati che hanno messo a disposizione per loro dei terreni. Andiamo a Foligno, video hard sul web con ricatto, scatta la denuncia. Vittime due folignati, due uomini, un trentenne ed un cinquantenne. Che cosa è successo? Entrambi sono iscritti a dei popolari social network con i quali incontrano virtualmente delle persone. Hanno incontrato e quindi hanno stretta amicizia tramite questi social network con una donna avvenente che è riuscita ad entrare in confidenza con loro ed è stata talmente brava che ha convinto i due, ovviamente in situazioni e modi diversi, a spogliarsi e poi però ha filmato questo video che è diventato un video hard e con il quale poi ha ricattato i due, ovvero se non mi date soldi faccio vedere il video a chi di necessità è scattata la denuncia e le due vittime che avevano abboccato come dire, se la sono davvero vista brutta. A Piazza San Domenico a Foligno c'è Classica d'estate, l'appuntamento è per sabato 29 agosto alle ore 21. Questo era il giornale dell'Umbria, il Corriere dell'Umbria per le sue pagine locali, in particolare a Città della Pieve c'è stato il Palio dei Terzieri dove ha vinto il rione Casalino a Gubbio, lo abbiamo visto, ancora una crepa sul manto di Via Tifernate che è stata chiusa. A Montone, Montone e San Giustino sono più vicine perché dal 1 settembre c'è una nuova linea di trasporto urbano per collegare le due realtà. E poi dai singoli territori, da Perugia, droga ed alcol, 8 neguai, sanzioni e patenti ritirati nel pattuglione di sabato sera. Accade anche questo al cimitero di Pila, siamo sempre nel Perugino, anziani nella rete dei trans. I trans sempre più adescano anziani al cimitero, consumano con loro un rapporto sessuale e poi li minacciano, ovvero vogliono più soldi, altrimenti rivelano il vizietto. Stop assembramenti davanti allo stadio Curi di Perugia, camioncini di panino vietati a partire dalla prossima stagione, cioè da questa che è in arrivo, stagione calcistica, il tutto per questioni di sicurezza. Sempre da Perugia per il mercato coperto c'è un bando per l'appalto dei lavori da 3 milioni 800 mila euro e scade il prossimo 30 settembre, quindi a Città di Castello, dove dall'11 al 13 settembre torna la Fiera Nazionale del Cavallo e torna protagonista il salto agli ostacoli. Festival delle Nazioni, un contest fotografico su Instagram, nuovi sguardi per immortalare momenti e situazioni particolari. E poi sono in arrivo in questo fine settimana le giornate dell'artigianato del Rione Prato, mentre sempre a Città di Castello, appuntamento mercoledì sera con una iniziativa che riscuote successo, la Mangialonga, una cena itinerante per riscoprire il centro storico. A Foligno, degrado e inciviltà, a Borroni i residenti non ne possono più, è l'inosservanza delle regole la prima causa della situazione e in particolare l'immondizia che viene smaltita male dai cittadini, ovvero non seguendo la raccolta differenziata. E poi un giostrante, o meglio ancora, un cavaliere di giostra di Foligno, si impone alla giostra di Servigliano, è esattamente Gubbini che a Foligno, lo ricordiamo, lo scorso giugno ha portato il palio al Rione Giotti. Questo per il Corriere dell'Umbria, La Nazione e le sue pagine locali, da Perugia troppo traffico e pochi parchi urbani, il rapporto Istat boccia di nuovo Perugia, sono solo l'1,4%, attrezzato a verde, circolano 70% abitanti, decisamente troppe. Sulla Cropoli intanto appuntamento dal 29 al 30 agosto con lo sbaracco 2015, due giornate di saldi all'osso e poi la cronaca alcol e droga, nel fine settimana nel Perugino strage di patenti, la stradale si è messa fuori dai locali, ha fatto alcol e drug test agli automobilisti, in otto sono stati trovati in fallo. Ancora da Gubbio, nuova frana in via Tifernate, strada chiusa fino a data da stabilire, a Montone, Santa Spina, il palio va a Porta del Monte, poi da Città di Castello, le fiere di San Bartolomeo chiudono il fine settimana con un bel successo. A Foligno è stato successo anche per la rassegna dedicata alla birra artigianale, il finale dell'evento dedicato alle spumeggianti bionde artigianali ha fatto registrare grandi numeri. E poi a Spello, uniti nel prevenire gli incidenti stradali, appello dell'Associazione Familiari delle Vittime. Il messaggero, le sue pagine locali da Perugia, è guerra sulle bollette dell'acqua, che hanno visto un sostanzioso ritocco in salita, ovviamente. E allora tutti in fila contro i rincari, Feder Consumatori dice guardiamo i bilanci di Umbracco e per capire come mai queste bollette li evitano. A Gubbio un'altra frana in via Tifernate che viene chiusa al traffico, a Foligno, o meglio ancora a Servigliano, si impone il Cavaliere di Giostra Gubbini che conquista il Palio e vince il Castel Clementino. Sempre da Foligno, notte bionda da record, la quinta edizione del Festival della Birra è stata davvero da Guinness. Bene, questo per le pagine dedicate alla cronaca, ci fermiamo solo qualche momento per poi leggere le pagine sportive. A tra poco.